ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono SAMU04PSELONT oggi siamo tornati qua in questo nuovo video perché volevo raccontarvi un po' dei progetti che sto portando sul canale che porterò e vi ricordo come sempre di andare da... tiro fuori... vi ricordo di andare come sempre sulla cima del rasoio che vi lascio qua qualche foto e vi voglio parlare dei nuovi video che arriveranno iniziamo subito allora volevo parlarvi dei nuovi video che arriveranno perché non ho notato questa cosa qua nuove video che arriveranno allora ci saranno nuovissimi video come intervista a Fabio Cimarogli a stack 2 la seconda quella più seria perché la prima è stata quella per provare un po' quella divertente è stata tra virgolette e volevo dirvi che arriveranno ovviamente queste nuove qui arriveranno anche FIFA 20 che porterò dei video magari sui gol che faccio col break c'è nel senso un modo di dirlo vi metterò la clip di tutti i gol che ho fatto col break in Europa League perché sto facendo carriera sono nel 2026 però non vi porto comunque la carriera perché non ve la voglio portare comunque se volete anche qualche altro tipo di video magari vlog dove parlo di alcuni argomenti magari editati montati anche sul computer con la fotocamera che vi lascio qua la foto della Canon e qualcos'altro ditemelo voi ovviamente questo qua è un video solo progetti futuri che ovviamente penso di continuare sul canale se volete anche qualcos'altro basta dirlo ovviamente nei commenti che vi porto tutto e basta dirlo liberamente oppure su Instagram che vi lascio qua scritto e niente ragazzi spero vi sia piaciuto questo video condividetelo con tutti perché è un progetti futuri è molto importante visto che vi parlo di quello che porterò dove è un po' più bello magari ritorno alle porte franche ritorno alla media world ritorno a quanto costa il se certo a quanto costa il tuo outfit no com'è che era la serie se non vi ne imprezzate lo compro e lasciate altri altri like per supportare il canale proprio iscrivetevi e condividete le interviste che vi lascio il link in descrizione dell'intervista che ho fatto a Fabio C. Marolli che sarebbe il proprietario di questo negozio Gesù è venuto a chiamarmi come vedete la luce sta aumentando adesso diminuisce e niente ragazzi noi ci pochiamo in un altro video Gesù vieni Gesù vieni